Il pericolo corre sul web, alcuni video mostrano tuffi molto rischiosi e ancora vivo il ricordo della tragedia avvenuta a Cornedo l'anno scorso quando un tredicenne perse la vita dopo essere scivolato in acqua. I primi a sollevare la questione sono i carabinieri della compagnia di Valdagno a cui sono stati segnalati alcuni filmati amatoriali in cui si vedono dei giovanissimi tuffatori improvvisati che si lanciano in uno dei punti più pericolosi del torrente, il e briscola. E gli episodi non mancano nemmeno nell'estate di quest'anno. I sindaci di Cornedo, Brogliano e Valdagno preoccupati in queste ore hanno deciso di emanare un'ordinanza che vieta la balneazione lungo tutto il corso del torrente Agno nel tratto che attraversa i tre comuni. Cornedo purtroppo ha già pagato a caro prezzo delle bravate fatte da ragazzi che si tuffano nell'agno nei momenti, nelle giornate più calde. È per questo che in accordo con altri sindaci della Vallata abbiamo emesso ed ho emesso una ordinanza di divieto di balneazione su tutto il territorio comunale nell'agno. Questo perché? Perché è oggettivamente impossibile per un'amministrazione vigilare su entrambe gli argini dell'agno nei punti più pericolosi e perché queste bravate possono costare un caro prezzo anche la vita dei nostri ragazzi. La preoccupazione è che i video dei tuffi pericolosi suscitino un effetto emulativo che sarebbe difficile da controllare visto che il torrente scorre per chilometri tra anse e salti d'acqua insidiosi. A compiere questi tuffi sono soprattutto giovanissimi che spesso non hanno la percezione del rischio che corrono. L'appello che rivolgo al di là dell'aspetto formale dell'emissione dell'ordinanza è ai ragazzi ma soprattutto ai genitori. Vigilate sui vostri ragazzi, state attenti quando escono di casa, se escono con il costume, se tornano con il costume bagnato, chiedete se fanno il bagno, dove vanno a fare il bagno e vietate categoricamente queste forme di pseudo divertimento che loro credono sia tale ma rischiano la loro vita.